Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Eccoci, allora, noi abbiamo bisogno di una chiave di lettura oggi rispetto a un fenomeno che già era pervasivo prima del Covid, prima del lockdown e lo è diventato forse ancora di più durante questo periodo di clausura forzata. Sto parlando del rapporto che abbiamo con il mezzo e lo strumento in via digitali, in particolar modo i social media. Abbiamo bisogno di una chiave di lettura per capire cosa è accaduto e cosa sta accadendo, ma anche, dato che si chiama l'altro binario, viaggio verso il futuro è possibile, anche capire cosa potrebbe succedere domani. E io entro subito in media stress nell'argomento chiedendoti questo. La premessa è proprio questa. Risulta che ci sia stato un incremento, forse quasi un boom, potremmo definirlo, nell'utilizzo dei social media durante questi mesi. Questo certamente da un punto di vista quantitativo, cioè più gente, più frequenza. Però quello che ci interessa è di cifrare soprattutto il lato qualitativo, cioè come sono stati utilizzati i social media. Guarda Matteo, direi partiamo dai dati, così fotografiamo la situazione e poi cerchiamo di andare al di là delle cifre. I dati sono senza dubbio interessanti. Abbiamo a disposizione alcuni dati su anno, diciamo, che vanno ad analizzare cos'è successo tra aprile 2019 e aprile 2020. Nel mondo, in questo periodo, abbiamo avuto 300 milioni in più di persone che si sono connesse a internet, 304 milioni in più di persone che hanno aperto degli account sui social media. La maggior parte di questi 300 milioni, sia di nuovi utenti, che di utenti, nuovi utenti di internet, che di utenti dei social media, ebbene si sono concentrate, guarda caso, proprio nei mesi che hanno caratterizzato l'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, tra l'altro, in tutto il mondo. Questo non ci sorprende, ovviamente. È interessante vedere come sono aumentate in realtà tutte le attività legate al digital. Un conto sono i nuovi utenti, andiamo a vedere poi cosa hanno fatto effettivamente. E allora sono aumentate notevolmente le attività legate allo streaming dei video. Netflix addirittura ha registrato 16 milioni in più di nuovi utenti. Sono aumentate il gaming online, è esploso, diciamo così. Le società che realizzano e commerciano videogame, diciamo che è stato un periodo piuttosto felice per loro, dal livello di business. È aumentato l'e-commerce anche, quindi tutto quello che ruota intorno, diciamo, alle nostre vite digitali. Così come è aumentato il tempo trascorso sui social media. La cosa interessante è andare a vedere all'interno di questi dati, come a livello anagrafico, l'aumento del tempo passato su queste piattaforme interessa un po' tutte le fasce. Quindi sia i più giovani, 16-24, ovviamente, 16-24 anni intendo, ovviamente, parliamo di persone che non potevano andare, ragazzi che non potevano andare a scuola o all'università, ma soprattutto è aumentato anche l'uso dei social media nelle fasce più, diciamo, della popolazione più agé, diciamo così, quindi anche negli over 60. Se andiamo a vedere poi a livello di paese, quindi di Italia, contestualizzata all'Europa, ecco, interessante notare come l'Italia e la Spagna siano stati due paesi nei quali è aumentato maggiormente il tempo passato sui social media. Guarda, per due ragioni poi fondamentali. La prima è che in realtà risponde questo aumento a una tendenza che già intravediamo in quei due paesi, per motivi culturali anche, sono due paesi in cui i social vengono utilizzati molto, ma sicuramente sono stati anche i due paesi europei che hanno subito, tra virgolette, diciamo così, dei lockdown molto severi. Gli altri paesi europei, vedi la Francia, la Germania, il UK, eccetera, bene, sono molto distanti in termini numerici rispetto appunto all'incremento nell'uso dei social media che c'è stato in Italia e in Spagna. Questi numeri qua ci aiutano a, appunto, fotografare un po' la situazione. Nulla di sorprendente, ovviamente, ecco, non ci aspettavamo di certo il contrario, ovviamente. Dovendo stare tutti a casa, è chiaro che il digital ha avuto questa esplosione. Proviamo a vedere un pochino, ecco, qualche chiave di lettura, decifrare un po' questi dati. Ci sarebbero ovviamente tantissime chiavi di lettura che, per motivi di sintesi, oggi qui sarebbe impossibile toccare tutte. Allora, mi piacerebbe, insieme, concentrarci su due chiavi di lettura fondamentali che rappresentano, a mio avviso, tra l'altro, per questo le ho un po' scelte, diciamo così, due facce della stessa medaglia. Ovvero, la prima. Cosa abbiamo notato in questi giorni, diciamo, di emergenze, questi mesi, anzi, di emergenza sanitaria? I social media sono stati caratterizzati sempre da un racconto collettivo di quello che avviene fondamentalmente fuori dalle nostre case. Noi sui social media siamo abituati, noi, a raccontare, ma anche ad osservare, a vedere quello che gli altri raccontano, di ciò che viene fatto fuori dalle quattro mura domestiche. I viaggi che facciamo, i tramonti che fotografiamo sulla spiaggia, le passeggiate con il cane, le nostre corse, no? In cui, addirittura, con le app mettiamo anche quanti chilometri abbiamo fatto fuori. C'è sempre questo senso un po' di fuga dalle quattro mura. Fotografiamo quello che mangiamo, ma di solito sono i piatti ricercati che ci ritroviamo di fronte in qualche ristorante, magari particolare. Ecco, difficilmente fotografiamo, no, lo spaghetto col tonno e il pomodoro che ci facciamo, magari, a casa da soli. Ecco, che cosa è successo, in realtà? Che, costretti, ovviamente, a rimanere all'interno delle quattro mura, in questi mesi cambia profondamente il territorio nel quale, il contesto nel quale ci siamo mossi e nel quale, ovviamente, si è mossa tutta la comunicazione visual, quindi video e fotografie, soprattutto, che ha caratterizzato questo momento. E quindi, ecco che, nel racconto collettivo, escono fuori i divani sui quali guardiamo la televisione, il tavolo sul quale mangiamo, i letti di sfatti in background, quando facevamo, magari, anche le connessioni per lavoro. A me piace pensare una sorta di rivincita del pensile, della cucina come background, rispetto al tramonto poetico e romantico, diciamo così. Ora, questo fenomeno, quindi, di un racconto molto più interiore, perché raccontiamo le nostre quattro mura, quello che di solito non mostriamo, ma abbiamo raccontato, attraverso gli elementi presenti all'interno delle nostre quattro mura, abbiamo raccontato anche le nostre paure, i nostri timori, il nostro disagio di vivere lì dentro. Bene, questo racconto collettivo, molto più interiore, a mio avviso, rispetto al passato, si è riflettuto, in realtà, anche in tanti altri piccoli racconti, c'è una foto, che, a mio avviso, mi è piaciuta molto, che può effettivamente consacrare questa dinamica. A un certo punto è stata pubblicata da Ronaldo, il famoso calciatore, che era a Madeira, se non sbaglio, nella sua villa con la fidanzata, una foto nella quale, nello sfondo, si vede lo stendino con i panni appesi. E, come si dice in questi casi, il popolo del web, tutti a commentare, pensa te, anche nella villa di Ronaldo, c'è lo stendino con i panni stesi, no? Mi piace pensare, ecco, un po' in maniera più leggera, però, chissà che quella fotografia, quello stendino con i panni appesi della famiglia Ronaldo, possa diventare anche un paradigma di una comunicazione che è cambiata e che si è fatta molto più interiore. E allora, ecco che, abbiamo assistito in questi mesi al culmine, questa è un po' la chiave di lettura, di un percorso che ha visto i social media, non dimentichiamolo, nascere come strumenti per il racconto di quello che avveniva fuori dalle nostre mura, ma di un racconto spesso anche giornalistico, se vogliamo. YouTube esplode, diventa famoso alla fine del 2004, tra il 2004 e il 2005, perché vengono caricate lì le prime immagini dello tsunami che colpì la Tailandia. Twitter, lo cominciamo tutti un po' a conoscere e a usare dal 2009, quando fu utilizzato nella Twitter, quella che in Occidente fu definita la Twitter Revolution in Iran, quindi per raccontare ciò che avveniva in quel paese. Poi che cosa è successo in questi anni? Abbiamo lentamente girato l'obiettivo dei nostri smartphone verso di noi, e quindi dal racconto di ciò che avveniva di fronte a noi, ecco che invece è arrivata la moda dei selfie, dei balletti su TikTok di oggi. Ecco, secondo me, questo racconto così interiore di noi ha raggiunto l'estremo in questo periodo del Covid. Questa, secondo me, è la prima chiave di lettura, è quella parte della medaglia che vi dicevo. Dall'altra parte, giriamo la medaglia, troviamo un'altra chiave di lettura altrettanto interessante, a mio avviso. Se da un lato i social media, quindi, diventano ancora di più strumento per raccontare noi stessi, sono però, in questo periodo, diventano anche strumento per decifrare la realtà, ovvero sempre più utilizzati come fonti di informazione. Questo è un altro dato che emerge, diciamo, tra i tanti dati che abbiamo a disposizione di questo periodo, ovvero i social media, sono diventati sempre di più in alcuni paesi, addirittura, le primarie fonti di informazione. E questo, ovviamente, è un tema che apre poi tante altre discussioni che mi piacerebbe, ovviamente, approfondire insieme. Sì, infatti, mi hai servito perfettamente la domanda che stavo per farti, anche perché è un tema sicuramente sotto i riflettori da molto tempo, ma a maggior ragione oggi. Per tutta è una serie di circostanze che, tra l'altro, hai elencato. Io vorrei proprio approfondire questo aspetto, cioè l'utilizzo dei social media come fonti di informazione. Chiaramente, anche qui, è duplice, no? Il punto di osservazione, perché da un lato ci sono i produttori di informazioni e dall'altro ci sono i fruitori di informazioni. La domanda è come sta avvenendo, che forma ha preso durante questo periodo del Covid? Cos'è che lascerà poi questo periodo del Covid? Quali considerazioni? Allora, a me piace di solito analizzare la realtà attraverso piccoli episodi e ce n'è uno che mi ha colpito, no? A un certo punto, forse l'avrete letta, sono una notizia un po' curiosa, di un signore che è stato fermato durante il lockdown dalla polizia e multato perché stava andando in edicola a comprare il giornale. Ripeto, piccolo episodio che mi ha fatto pensare, ma allora viviamo veramente ormai in un mondo in cui comprare il giornale non è più considerato necessario, cioè non era più lo spostamento necessario che ci permetteva di andare a comprare il pane o il giornale. Ecco, la riflessione è questa, stiamo andando sempre di più effettivamente verso un mondo nel quale il giornale sembra sempre meno necessario e quindi ecco che il poliziotto ti fa la multa se tu esci per andare a comprare il giornale. Che cosa sta succedendo? Abbiamo visto appunto i dati hanno accelerato una tendenza, quella del digital in generale e dei social media come fonti di informazione è in realtà una tendenza che già sono anni che stanno lentamente in alcuni paesi molto velocemente in realtà scavalcando quelle che vengono definite le fonti di informazione più tradizionali. In Italia in realtà va detto che rispetto ad altri paesi abbiamo una fonte di informazione che tiene ovviamente e che è la televisione anche per una questione anagrafica essendo appunto siamo al Giappone il paese più vecchio del mondo è chiaro che la televisione fa ancora presa in questo periodo quindi se vediamo le statistiche la tv fino ad adesso è stata e continua ad essere in Italia la primaria fonte di informazione in questo periodo i social media sembrano in realtà aver scavallato anche la televisione quindi spodestandogli quel primato questo apre una serie di riflessioni innanzitutto conferma una tendenza che abbiamo visto già in passato ovvero prendiamo la Grecia quando ci fu la crisi greca fu in quel momento ovvero in un periodo in cui i cittadini greci avevano bisogno di maggiore informazione su quello che stava avvenendo al loro paese su quello che sarebbe avvenuto al loro lavoro alle loro vite che cosa hanno fatto è in quel momento che i social media sono diventati la prima fonte di informazione in quel paese scavalcando la televisione di nuovo qui abbiamo un'emergenza il covid e di nuovo vediamo lo stesso fenomeno in Italia social media che provano a scavalcare e a spodestare la televisione e qui la riflessione che dobbiamo porci tutti quanti a cominciare da chi lavora nel sistema informativo è ma scusa qui abbiamo dei cittadini che hanno bisogno nasce il bisogno di maggiore informazione invece di andare su le fonti di informazione tradizionali quelle anche che offrono maggiore credibilità le scavalcano le scavalcano e vanno ad informarsi attraverso il mondo dei social media allora già qui anche una prima riflessione sul livello di credibilità che oggi ahimè no a livello giornalistico c'è di fiducia anche nei confronti dei mezzi di informazione quindi questo sicuramente è il primo tema che pone il secondo tema è che chiaramente eh guarda questa dinamica è come un matrimonio hai bisogno di due persone che dicano sì perché tu hai da un lato cittadini che vogliono informarsi di più e decidono di informarsi sui social media dall'altra parte devi avere qualcuno che su questi social media immetta informazione ovviamente no e dall'altra parte abbiamo notato altro appunto spunto di riflessione un utilizzo sempre più massiccio da parte delle istituzioni quindi quelle istituzioni che diciamo in questi anni hanno fatto un percorso di innovazione della propria comunicazione hanno accelerato tantissimo in questo momento la famosa o famigerata conferenza stampa del presidente Conte in diretta su Facebook no e beh è la consacrazione in fondo di questo fenomeno cittadini che vogliono informazione sui social dall'altra parte c'è qualcuno che gliele deve offrire ma anche le conferenze in diretta sempre sui social dei governatori delle regioni i video dei sindaci anche dei piccoli comuni che ogni giorno aggiornavano i propri cittadini ecco fanno parte tutto di questo matrimonio da una parte i cittadini che vogliono maggiori informazioni sui social dall'altra istituzioni che cercano in qualche modo quantomeno di offrirgliele ora questa dinamica pone però ho degli interrogativi se da un lato a mio avviso ci sono due elementi positivi ce ne sono anche due che ci fanno un po' riflettere i due elementi positivi quali sono? sono quelli di una istituzione che fa dei passi avanti verso una comunicazione più fresca più innovativa dall'altra anche chissà che questi strumenti non possano veramente anche aiutare un rapporto più diretto più vicino con i cittadini rapporto che insomma giudicare anche dalla credibilità e dal livello di fiducia nei confronti della politica andrebbe sicuramente migliorato il rapporto tra cittadini e politica se questi sono i due elementi positivi se ne aprono anche due negativi su quali riflettere il primo diciamo è tecnico ma non è poi così tecnico nelle sue implicazioni ovvero quando noi ci informiamo sui social ci informiamo su quelle che vengono definite delle fonti algoritmiche ovvero abbiamo un'intelligenza artificiale dall'altra parte dell'oceano o dietro di noi dipende da un'ampiazzata che sceglie quali contenuti noi vediamo e quali no questo apre una serie di interrogativi così la seconda cosa negativa mi avviso è che a quel punto benissimo i cittadini decidono di informarsi sui social media si apre la voragine la voragine delle informazioni che trovano su quei social media cioè hanno la capacità i cittadini oggi di capire quelle informazioni e soprattutto di capire se siano vere oppure no e qui si apre un grossissimo tema che è quello della disinformazione che avviene attraverso prego prego Matteo sì sì no dicevo qui arriviamo proprio al clou della questione perché credo che sia un'esperienza comune a tutti indistintamente quanto meno a tutti coloro che in una misura o nell'altra utilizzano i social media oggi in questo periodo quella di essere letteralmente bersagliati da informazioni e da contro informazioni cioè di essere immersi in un dibattito spesso anche molto violento che riguarda proprio la credibilità delle informazioni che si trovano su internet che sembra quasi dividere la società in due in due tribù la tribù che crede in una cosa e la tribù che crede in un'altra e questo è collegato a un fenomeno insomma usiamo la terminologia più comune oggi il fenomeno delle fake news fratello poi del parente stretto quantomeno del complottismo cioè di quel fenomeno che vede l'assemblare una serie di fake news in un insieme apparentemente coerente e che però raccontano una realtà che non corrisponde alla realtà dei fatti questo è ripeto secondo me il clou di questa di questa intervista che vogliamo fare perché credo che abbiamo due necessità la prima è quella di orientarci in questo labirinto la seconda è di capire come si possa risolvere questo problema come non esserne vittime per sempre finché esistono i social media quindi io ti chiedo di darci delle indicazioni in entrambe queste direzioni allora la questione c'è c'è da un po' di anni ormai ed è chiaramente emersa con forza durante questa emergenza sanitaria è una questione che a me piace riprendendo una definizione che alcuni studiosi utilizzano è una questione che piace definire di disordine informativo all'interno del quale poi ci sono le fake news ci sono le news un po' meno corrette ci sono forme di manipolazione ci troviamo un po' di tutto a me anche qua come mi aveva colpito la notizia del signore bloccato perché andava a comprare il giornale qui mi ha colpito un'altra notizia quando ho letto che in Gran Bretagna perché è una questione che guardate vale in tutti i paesi o solamente da noi quando un signore in Gran Bretagna un burlone ha fatto girare un video un audio scusate su whatsapp sostenendo che il governo inglese avrebbe cucinato una lasagna enorme dentro lo stadio di Wembley per metterla a disposizione degli degli inglesi come forma di supporto nei confronti dei cittadini che potevano a quel punto andare allo stadio a Wembley a mangiarsi la lasagna ora a parte pensare a una lasagna cucinata dagli inglesi ma vabbè ma questo diciamo che apre questioni culinarie che magari qui esulano dalla nostra discussione il fatto è che ci sono state persone che si sono presentate a Wembley per mangiare quella lasagna questo signore buontempone lui stesso ha detto questa roba mi è sfuggita di mano doveva essere uno scherzo lanciato lì in un audio su whatsapp no ed è diventata una notizia del governo inglese che cucinava una lasagna gigante nello stadio di Wembley allora perché mi ha colpito no perché per un po' di anni questa storia della disinformazione o delle fake news diciamo così è stata un po' relegata in parte come dire a certe fasce no come no pensando che ma sì ci sono quelli che un po' più sempliciotti che ci cascano non è più così in realtà non è più così cioè le fake news stanno uscendo dalle chat del calcetto questo è il punto se un tempo erano relegate lì e abbiamo pensato che fossero e potevano rimanere lì oggi non è così oggi quelle miei fake news stanno arrivando nei centri decisionali delle nostre democrazie le fake news oggi siedono in parlamento siedono nei nelle stanze dei bottoni quando ascoltiamo nel principale organo legislativo del nostro paese interventi che tirano fuori i peggiori complotti internazionali in cui si parla di Bill Gates dietro al covid con un po' di amici suoi un progetto per sterminare parte dell'umanità e lo sentiamo con una eco che fa male all'interno del parlamento ecco questo ci fa capire che non è più un fenomeno da chat del calcetto o della classe diciamo così ma sta uscendo se le fake news riescono la disinformazione in generale a penetrare la trincea che deve difendere questi centri decisionali e riescono a penetrare anche lì allora sì che si pone il problema perché allora in questa fase di emergenza sanitaria il covid purtroppo porta ha portato e porta tuttora ahimè persone in terapia intensiva ma le fake news portano in terapia intensiva le democrazie le soluzioni volentieri questa è un po' la fotografia della realtà soluzioni dunque ce ne sono un po' ovviamente dato che il tema non è nuovo qualche soluzione si sta già immaginando non mi convincono in pieno devo dirvi la verità le tre principali soluzioni ovvero la prima la prima è un sistema dei media tradizionali giornalisti eccetera che spesso e volentieri tende giustamente dico giustamente a ergersi come no diga nei confronti della disinformazione ora è una soluzione che a me non convince per due ragioni la prima tu hai a quel punto un sistema di media che dove hai dei professionisti che vagliano le notizie e tutte queste notizie quindi vagliate circolano all'interno di una sorta di strada di autostrada frequentata però da pochissime persone tu hai una strada parallela fatta invece di disinformazione pessimo lavoro giornalistico o assenza di lavoro giornalistico che filtra che invece è frequentata da milioni di persone perché parliamoci chiaro io lo vedo quando vado a insegnare all'università o nei master i giornali non ce li ha nessuno dei miei ragazzi nessuno tu mi dirai perché prendono l'abbonamento digitale ma che ma neanche neanche la televisione non la guardano la radio ma guarda ascoltano Spotify allora se tu fai quel lavoro su questi media più tradizionali ripeto raggiungi solamente una nicchia una tutta una parte enorme rimane fuori la seconda cosa che non mi convince della soluzione questa qui dei media dei giornalisti che si pongono come come dire no diga è il fatto che ahimè oggi all'interno delle redazioni mancano mancano tantissime competenze che sono necessarie per decifrare un sistema mediatico pieno di disinformazione è fatto di una disinformazione sempre più sofisticata ma oggi abbiamo delle intelligenze artificiali che scrivono articoli fake e riescono a creare un network di rimandi e di link per i quali non riesci più a capire se una foto sia vera oppure no dato che ci sono dei tool delle tecniche per farlo sono conosciute all'interno delle redazioni per quello che ahimè ho potuto vedere e sperimentare nella mia attività parlando anche con molti giornalisti essendo anch'io iscritto all'ordine ebbene quegli strumenti e quelle tecniche ancora mancano la seconda soluzione della quale spesso si parla è quella di livello istituzionale diciamo così ovvero ad esempio anche durante il covid sono state create delle task force contro la disinformazione ora può funzionare una cosa del genere nel momento in cui ahimè spiace dirlo ma sono a volte spesso le istituzioni e i politici i primi spacciatori di fake news allora se ci fosse una distinzione nettissima distinzione nettissima tra la comunicazione istituzionale e la comunicazione politica allora sì ci sto guarda il migliore dei mondi possibili è avere una task force ministeriale che addirittura confuta quello che dice il ministro questo è il migliore dei mondi possibili allora lì funziona lì funziona ma se la comunicazione istituzionale è piegata alla comunicazione politica allora non funziona terza soluzione l'abbiamo vista un po' in questi giorni notizia quando twitter ha deciso di bollinare diciamo così addirittura come una sorta di fake news o comunque notizia non accurata un tweet del presidente degli stati uniti d'america e allora tutti a dire beh questo è il ruolo che dovrebbero avere le piattaforme se ne discute da un po' twitter ha preso una posizione molto forte facebook è più tiepida su questo tant'è vero che addirittura all'interno di facebook c'è una fronda di manager che chiede a zuckerberg una posizione più netta su questa questione bene che le piattaforme debbano fare questo lavoro debbano un po' migliorare questo aspetto di controllo dei contenuti non c'è dubbio però io mi chiedo e chiedo anche a voi ma vogliamo vivere in un mondo in cui siano twitter e facebook e instagram e tiktok a dirmi che cosa è vero e che cosa no ma se me lo chiedi ti dico anche no preferisco vivere in un altro mondo in che mondo preferirei vivere così vi lancio una piccola proposta ecco per andare alle conclusioni e magari lasciare spazio alle domande mi piacerebbe vivere in un mondo nel quale si ricomincia a questo punto a parlare di questi temi si portino questi temi nelle scuole perché è da lì se abbiamo perso una generazione che va a Wembley convinta che ci sia la lasagna o se abbiamo perso una generazione anche qua in Italia di persone che hanno trattenuto il respiro per dieci secondi perché era arrivata la sciattina il messaggio su whatsapp che diceva che il medico taiwanese aveva detto che se per dieci secondi trattieni il respiro non hai il covid se quella generazione magari l'abbiamo persa cerchiamo a questo punto di lavorare sulle nuove generazioni portiamo nelle scuole queste tematiche insegniamo ai ragazzi qual è il nuovo sistema informativo nel quale già vivono e vivranno in futuro insegniamogli la potenza che hanno quando spingono in via che cosa vuol dire a me è capitato e qui chiudo piccolo aneddoto mi è arrivata su una chat ho visto una notizia palesemente falsa una stupidaggine da parte di una persona che ha premesso questo messaggio dicendo guardate non so se sia vera però io ve la mando lo stesso non si sa mai ecco no no non hai capito qual è la potenza di quel pulsante in via che hai premuto e allora partiamo da lì ritorniamo appunto a parlare nelle scuole di questi temi se è fatto in parte in passato con i giornali in classe eccetera oggi portiamo questo i temi della disinformazione e le nuove competenze che ci vogliono in questo modo non sarà la task force del ministero a dirmi se è una roba fake e non sarà twitter ma magari saremo noi ad avere gli strumenti per dire questa roba la cestino e non la faccio girare grazie sono arrivate delle domande interessanti una è questa che è stata appena mandata in sovraimpressione che dice se i social diventano sempre più fonte di informazione come fare per non venire imprigionati dalle bolle algoritmiche quindi dal punto di vista dell'utente mi interessa per questo esatto vado a decifrare prima perché magari non tutti riescono a decifrare la bolla algoritmica ecco bolla algoritmica cosa vuol dire quel discorso che vi dicevo prima nel momento in cui è un algoritmo che decide cosa vi fa vedere di solito quest'algoritmo prende una serie di criteri cioè vede quello che vi piace le persone che più seguite e vi fa tendenzialmente vedere un po' sempre gli stessi contenuti andando a creare quindi una bolla cioè vi fa vedere quelle notizie che a voi piacciono quelle notizie sulle quali siete d'accordo ecco perché non possono i social essere l'unica fonte come se ne esce dalla bolla se ne esce di nuovo andando nelle scuole spiegando questa cosa se tu ai ragazzi dici ragazzi ma lo sapete perché voi vedete sempre il post di Antonio su Instagram e non quello di Marco e loro ti dicono beh perché Marco non posta mai no guarda che Marco posta posta tutti i giorni ma tu non lo vedi ah ma dai non lo sapevo questa cosa no? ebbene allora prova ad andarti a vedere anche i post di Marco prova anche a uscire da Instagram da Facebook eccetera e andare a leggere qualche giornale online così ad esempio andare alla fonte diretta delle informazioni ad esempio in certi casi ecco tutto questo di nuovo non lo puoi fare se non racconti alle generazioni che hanno vissuto che stanno vivendo scusate questo periodo come utilizzare questi strumenti il problema è uno che la mia generazione è arrivata a questi strumenti no? senza che nessuno l'abbia traghettata nessuno ci ha spiegato come funziona internet a noi qualcuno si è messo lì e ha studiato altri no ovviamente ma mica tutti ci possiamo mettere a studiare come funziona la bolla algoritmica dentro Facebook e allora qualcuno però le deve insegnare quanto meno le nuove generazioni certo ne avevo vista un'altra eccola qua anche questa molto interessante secondo me può essere utile l'attività investigativa che sveli i mandanti interessi degli spacciatori di fake news? senza dubbio e questo viene fatto guardate all'interno di questo mondo della disinformazione ci sono i cattivi e per fortuna ci sono anche i buoni ci sono tanti buoni che ahimè guardate lavorano con pochissime risorse spesso e volentieri sono magari finanziati da ONG all'interno di alcune redazioni di alcuni giornali anche americani spesso si stanno creando delle piccole proprio unità unit che devono combattere le fake news ma non solamente combatterle e confutarle ma andare dietro come diceva appunto la persona che pone la domanda cioè capire chi sono i mandanti la BBC ha fatto recentemente proprio un un bellissimo studio su questo eh ahimè lo sapete qual è il risultato che i mandanti senza far nomi e cognomi ma erano tre famosi i principali mandanti delle fake news erano tre famosi politici internazionali siamo pronti poi a eh prendere le misure rispetto ai risultati di questa attività investigativa perché uno pensa sempre che il mandante sia un po' col cappuccio no nel garage di casa non è quello quello è l'operativo no e ovviamente ci sono ben altre figure questo è interessante e inquietante nel contempo oserei dire ehm io chiuderei l'intervista con l'ultima domanda che è la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti di l'altro binario ed è questa visto che stiamo preparandoci a un viaggio verso un possibile futuro tu eh metaforicamente nel bagaglio di questo viaggio cosa metteresti? Bellissima domanda eh prova a rispondere con una frase che ho stampato un po' interiormente diciamo così eh è una frase di uno studioso si chiama Staz Terkel che dice che siamo sempre più interessati agli strumenti di comunicazione no ma siamo sempre meno interessati all'arte di comunicare ecco ci stiamo tanto focalizzando no sugli strumenti sulle piattaforme ci piacciono ci piacciono le nuove funzionalità le foto in 3D e la realtà aumentata eccetera stiamo perdendo di vista in realtà l'arte di comunicare e l'arte di informarci ecco magari ci mettiamo in valigia un po' più di consapevolezza su questo e probabilmente il mondo quindi facciamo fare un passettino in avanti ti ringrazio ti ringrazio per tutte queste queste informazioni indicazioni e conoscenze che ci hai dato e come diceva Nicole prima mi auguro di vederti su un palco dal vivo speriamo molto volentieri anch'io grazie Antonio presto grazie a voi grazie a voi grazie grazie mille anche da parte mia da parte di tutto il team ovviamente e io da persona che lavora nel digitale ero qua proprio ho grande entusiasmo e inquietante da un certo punto di vista sappiamo essere anche inquietante il tema però sono molto contenta insomma di tutti gli spunti che sono stati dati e assolutamente concordo c'ero proprio entusiasta nel backstage grazie mille quindi Antonio per tutte le cose e gli spunti super interessanti che ci hai dato oggi e speriamo appunto di vederci presto dal vivo